Ci siamo, cominciano i corsi della Geeks Academy. Qui con me ho il piacere e l'onore di avere l'architetto, nonché designer, art director, scenografo, digitale e innovativo, l'architetto Riccardo Bocchini. Racconteremo la praticità del nostro lavoro, scenderemo nei particolari del nostro lavoro. Cercherò di trasferire ai ragazzi il mio animo che si trasferisce nelle mie immagini, nelle mie scenografie.